Benvenuti in un nuovo video Benvenuti al punto, un'altra trasmissione per approfondire temi politici e amministrativi dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata, Andrea Liberati, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Benvenuto a Giacomo Leonelli del Partito Democratico, presidente della Commissione Antimafia. Partiamo da qui Leonelli, partiamo da questo lavoro che da qualche settimana sta mettendo in piedi, insomma con audizioni e soprattutto con approfondimenti, con un resoconto anche rispetto a quello portato a termine dalla precedente Commissione. Lo ricordo con la presidenza, Brutti, che lei ha ascoltato tra l'altro in questi ultimi giorni. Ecco, qual è la situazione dell'Umbria dal punto di vista della sicurezza? Poi chiaramente andremo da Liberati. La situazione è che non possiamo da un lato mai abbassare la guardia sul tema delle infiltrazioni di criminalità organizzata e poi anche c'è un tema purtroppo che rimane sullo sfondo ma la cronaca ne parla spesso che è legata alle questioni delle tossicodipendenze che è un'altra competenza della Commissione. Non abbassare la guardia significa innanzitutto lavorare per una cultura della legalità in questa regione, non perché in questa regione ci sia la cultura dell'illegalità, ma perché chiaramente le infiltrazioni di stampo mafioso sono più forti dove magari ci sono meno anticorpi, perché magari non si è abituati a una determinata fattispecie. Peraltro su nostra proposta della Commissione la regione avrebbe proposto anche la costituzione di parte civile nel primo processo contro la criminalità organizzata della nostra regione che si sarebbe dovuto tenere qualche giorno fa. Poi è stato rinviato ma sicuramente la data del rinvio non chiaramente per questioni legate alla nostra costituzione di parte civile ma quando verrà appunto riaggiornato ci sarà la regione proprio a dimostrazione che tutte le istituzioni insieme ai cittadini devono fare fronte comune su una dinamica che tanto più è forte la capacità di resistere anche con anticorpi nella società, in particolare tra i più giovani, nelle scuole e tanto chiaramente meno può attecchire. Se invece ci si impigrisce, se invece non si sta con le orecchie ben aperte, con gli occhi ben puntati su quello che è il panorama regionale purtroppo possono verificarsi situazioni come quella che di fatto va a processo. Chiaramente siamo ancora sulla fase delle finite le indagini, siamo sulla fase di inizio del dibattimento per cui non possiamo sicuramente gettare la croce addosso a nessuno però dalle indagini della procura insomma risulta un'organizzazione ramificata nella nostra regione. Ecco questo è il primo processo verso un'organizzazione che è considerata non così semplicemente ancillare nella nostra regione ma appunto ramificata. Liberati. Sì, per quanto riguarda il tema mafia, tanti osservatori qualificati e autorità competenti sul campo per quanto riguarda questo delicatissimo tema, ci comunicano che l'infiltrazione è realtà da tempo, infiltrazione mafiosa criminale. Ora la risposta quale può essere? Beh, anzitutto vediamo come accada sovente che la direzione nazionale antimafia arrivi, arrivi talora senza che svariati sostituti sappiano cosa c'è in corso e quindi arrivano da Roma, dal territorio nazionale, delle indagini che sovente non sono conosciute nemmeno in Umbria. Cosa voglio dire? Voglio dire che c'è ancora molto da fare e io spero che la commissione antimafia non si traduca in una sinecura o in un organismo che non riesce a fare pressoché nulla, ma si venga interpretata come qualcosa che viene sentito fortemente anzitutto dai consigli regionali che la compongono. Quindi un fenomeno che indubbiamente c'è, che va combattuto con tutte le nostre forze e per combatterlo occorre appunto avvertirlo. Questa sensazione, questo sentimento mi pare che non sia riscontrato però da parte di non pochi dei miei colleghi, per svariati motivi, perché da un lato appunto c'è questa vulgata per la quale l'Umbria è una regione impermeabile e tuttavia questa è una vulgata appunto che viene smentita dai fatti. Credo che la commissione quindi rappresenti uno degli elementi, poi c'è il tema della società civile. È chiaro che non possono essere soltanto i cittadini eletti in politica, i politici che fanno la loro parte. Loro devono dare l'esempio, noi dobbiamo dare l'esempio, ma occorre risvegliare le coscienze della società civile ammettendo che il problema c'è, quindi riconoscere il problema perché esiste. Allora, prima Leonelli ha parlato chiaramente rispetto a questa commissione di tossicodipendenza che poi fa parte insomma delle infiltrazioni criminali, insomma è legato, sono dei discorsi chiaramente legati. Ci sono altre emergenze che sono l'alcolismo, soprattutto nei giovani sta venendo fuori questa altra piaga addirittura adolescenti che si avvicinano a questa pericolosa risposta per loro. E poi la ludopatia, insomma anche il gioco d'azzardo e via dicendo. Sono temi di estrema attualità e di estremo interesse. Come verranno affrontati i liberati? Ora vedremo cosa metterà in piedi chiaramente la presidenza della commissione. Il punto nodale, a mio parere, è però esterno alla commissione ed è la famiglia. I valori che vengono portati avanti nelle famiglie sono quelli che rappresentano l'unico, uno dei punti cruciali per respingere l'attacco dei disvalori. Quindi ludopatia, alcolismo, tossicodipendenza sono fortemente legati a quelle che sono le dinamiche interne alle famiglie, alle famiglie umbre italiane. C'è una disgregazione in corso ed è evidente, no? E va avanti purtroppo da decenni. Una china negativa. Su questo ben poco può fare, ripeto, un organismo regionale. Credo che la classe politica tutta debba avvertire in modo più profondo quello che è il disagio, il malessere delle famiglie e provvedere conseguentemente. Sul come ci sono svariate proposte e tuttavia anche qui bisogna riconoscere il problema. Non è che il disagio, il malessere dei giovani, dei meno giovani esiste in quanto è dato dalla natura. Ci sono delle condizioni a monte. Il brodo di cultura, che è quello familiare, poi scolastico, è fondamentale. Quindi ognuno deve fare la propria parte, indubbiamente dentro il proprio nucleo familiare, quindi i genitori, noi credo che possiamo interpellare la società civile, ascoltare quello che è il disagio e poi di conseguenza comportarlo. Donnelli, sarà uno dei passaggi prossimi del lavoro della Commissione, entrare anche in queste tematiche? Sicuramente, anche perché il fenomeno in particolare dell'autopatia spesso è, o meglio, legato a volte, anche per quello che ci dicono un po' le cronache, che ha questioni legate a loro volta alla criminalità organizzata. C'è chiaramente una ludopatia, tra virgolette, figlia di percorsi legali, o comunque sia legalizzati dal nostro Stato, ma ci sono anche invece fenomenologie dove chi si arricchisce sulla base appunto del vizio del gioco delle persone, sono le organizzazioni criminali. Per cui sicuramente è un altro fenomeno che rientra, rientrerà nel novero delle questioni che andremo a toccare. Poi, diciamo che la Commissione ha per sua istituzione anche, oltre al profilo della criminalità organizzata, oltre al profilo delle tossicodipendenze, anche il profilo della qualità della vita. Ora, qui dovremmo un po' capire cosa fa rientrare in questa norma di chiusura, però sicuramente tutto quello che è legato a, e su questo concordo anche con il Consiglio Liberati, ad un'attività che può mettere in piedi la Commissione per rafforzare alcuni valori, soprattutto tra i più giovani, penso che si debba mettere in campo. Ripeto, questa è una Commissione di inchiesta, con poteri che non è chiaramente i poteri della Commissione di inchiesta parlamentare. Può fare molto se dà un contributo, sia dal punto di vista della cultura, appunto della legalità che dobbiamo rinnovare e sicuramente diffondere, sia anche, mi piacerebbe, l'ho detto più volte, anche elaborare progetti con i comuni, per dare manforte nel territorio ad iniziative che possono appunto avvalorare questo modello, che è un modello per cui l'Umbria è una regione migliore, sicuramente se investe, se lo sviluppo riparte, se si tende la mano ai più deboli, ma anche se si diffonde una cultura della legalità e dell'educazione civica sicuramente più marcata. Passiamo a un tema che sta a cuore a tutte e due, che è quello ambientale, sul quale, tra l'altro, proprio ieri stiamo registrando questa trasmissione, oggi è martedì 19 luglio, ieri c'è stata una conferenza del Movimento 5 Stelle sull'ambiente, in particolar modo sull'amianto. Anche la seconda Commissione si sta occupando di questo, dei danni provocati a livello di salute, insomma, a chi lavora in certi siti, dove è presente ancora l'amianto, è immerso che ci sono 137 siti pubblici, insomma, dove c'è bisogno di bonifica, in Umbria, insomma, un tema particolarmente delicato, Liberati. Ma anche qui io rileverei come il tema da portare avanti è la cultura della legalità dentro le istituzioni, perché così come quando parliamo di ludopatia bisogna ammettere che lo Stato è il primo a scommettere sull'incoscienza, sull'ignoranza e quindi lascia disperdere milioni e miliardi ai cittadini giocando sulla loro salute, allo stesso modo in tema ambientale si lasciano correre situazioni che dovrebbero essere contenute da tempo in una condizione di totale illegalità. E per quanto riguarda l'ambiente, mentre ci sono situazioni su cui entra in gioco la mera sfera privatistica, perché sono magari le aziende, le grandi aziende, qui parliamo di multinazionali usualmente, o aziende di Stato del Parastato, come nel caso delle officine grandi riparazioni di Foligno, ecco, mentre c'è appunto una struttura spesso privatistica per cui o non ci sono i soldi, o viene detto che non ci sono i soldi, per cui si lasciano andare le cose in un certo modo, contaminando tutto, laddove c'è l'amianto, c'è un interesse ancora più prioritario di natura pubblicistica, su cui lo Stato non dovrebbe avere remore nell'imporre ciò che esso stesso ha deliberato. Intendo dire che sull'amianto esistono normative che parlano chiaramente di obbligo di bonifica. Questo non viene fatto, ma quella Umbra è una situazione ancora più grave. L'Umbria sull'amianto è rimasta davvero, un'era geologica indietro, perché se guardiamo i principali poli siderurgici, produttivi siderurgici d'Italia, vediamo che tra Torino, Piombino e Taranto, l'amianto è stato riconosciuto fino ai primi anni 2000 ai lavoratori, senza nemmeno l'onere della prova da parte di Costoro. Cosa accade invece per il poli siderurgico Tisse, in gruppo i Terni e altre aziende del Narnese e altre, insomma, tra Foligno, Perugia, eccetera? Cosa accade in Umbria? Accade che sostanzialmente l'onere della prova ricada totalmente sui lavoratori, ad esempio a caso Tissencrupp, fino al 31-12-92 è ammessa la presenza dell'amianto, dopodiché è come se fosse scomparso, e poi con discrasie assurde, come nel caso davvero di Tissencrupp Torino, che a fronte di lavorazioni identiche ha avuto il riconoscimento dell'amianto, quei lavoratori quindi sono stati congedati o hanno avuto maggiorazioni contributive, senza l'onere appunto della prova, mentre con la stessa azienda per Terni questo non è stato fatto. Leonelli era presente anche lei, chiaramente membro come liberati della seconda commissione, ieri mattina, ecco questa diciamo che è una situazione un po' paradossale, quella che diceva adesso liberati un riconoscimento per Torino, non riconoscimento per Terni, ecco. Sì, lì in sede di audizione di seconda commissione è stato sollevato anche dai soggetti che abbiamo ascoltato che magari in Umbria, a quanto ho capito, a quanto è emerso, poi parliamo appunto di questioni che purtroppo, un po' dopo ci arriverò, ereditiamo e si sono molto incrozzate negli anni. sicuramente c'è stata a quello che si è capito ieri una sottovalutazione anche probabilmente della parte sindacale rispetto a quelle che sono state le istanze invece mosse nelle altre sedi che prima citava il Consiglio dei Liberati. Quindi magari dove c'è stata una presenza sindacale più, come posso dire, a quello che si è appreso ieri, poi insomma purtroppo eravamo diciamo semplicemente ascoltatori di questo che ci veniva rappresentato. Magari ci si rappresentava il fatto che in altre sedi c'è stata invece una puntualizzazione sul tema dell'amianto anche da parte dei lavoratori in particolare dei sindacati più presente e quindi diciamo la causa un po' di quello che è stata la situazione che la testa è rappresentato Consiglio dei Liberati è un po' figlia di quella dinamica lì. Però io voglio dire una cosa sull'ambiente noi ereditiamo una situazione rispetto alla quale il complesso di normative che avevamo erano molto molto sicuramente inadeguate in passato. Pensiamo che noi negli anni 80 di fatto negli anni 80 cioè non parliamo degli anni 10 insomma negli anni 80 di fatto un comune se aveva problemi con i rifiuti si scavava la propria discarica faceva la classica buca e buttava i rifiuti dentro quindi voglio dire su questo è chiaro che c'è stata una sottovalutazione complessiva io credo dello Stato di quello che può aver prodotto un rifiuto negli anni e anche sicuramente dell'amianto perché poi l'amianto ieri devo dire è stata anche una commissione utile perché si è ribadito come i primi riferimenti legislativi sulla diciamo sulla inopportunità della presenza di amianto a contatto con donne e bambini è addirittura dei primi del novecento quindi su questo c'è stata una sottovalutazione o anche diciamo un forse un volersi girare dall'altra parte da parte dello Stato in tutto il novecento quindi sicuramente ora noi non possiamo che provvedere alla bonifica l'obiettivo è una legge mi pare di aver capito l'obiettivo è una legge regionale per contribuire anche a migliorare le normative nazionali ma no l'obiettivo se si arriva a una legge ben venga il problema è che abbiamo diciamo più emergenze che chiaramente rischiano chiaramente un po' di esplodere nel tempo perché poi magari quello che veniva considerato lecito negli anni 80 esplode 30 anni dopo quindi questo è un po' il problema ora io credo che serva e concludo un approccio molto puntuale da parte nostra anche mettendo alle spalle le reciproche differenze io per esempio sono molto soddisfatto di un atto che ho provato col consigliere liberati sulla Val Nestore che è un'area che negli ultimi tempi è stato al centro della cronaca per le questioni dell'inquinamento le questioni dei rifiuti stanno facendo delle indagini quindi non bisogna sicuramente diciamo o meglio bisogna aspettare un po' gli esiti di quello che stanno verificando però sicuramente una situazione di difficoltà c'è stata la cittadinanza è sicuramente molto agitata giustamente rispetto a queste dinamiche io il consigliere liberati cioè il PD e il Movimento 5 Stelle che notoriamente sono come cane e gatto abbiamo però trovato sicuramente il modo di mettere a sintesi due percorsi autonomi che stiamo facendo cioè due mozioni in Consiglio regionale siamo arrivati a una mozione comune che ci impegna a fare una serie di cose sia sulle indagini sia eventualmente sulla bonifica penso che questo sia un po' un messaggio positivo che abbiamo lanciato dal Consiglio regionale sull'inquinamento sul tema dell'ambiente ripeto pur sapendo che spesso diciamo ci troviamo a governare situazioni che sono state incancrenite o meglio che si sono incancrenite 30-40 anni fa dobbiamo cercare di essere trasparenti e anche diciamo di fare il più possibile il bene dell'Uno l'altra domanda che era la Val Nestore quindi vado proprio da Liberati come dire insomma con una frase fatta però la salute non ha colore politico quindi quando parlava prima di questa convergenza su queste situazioni e questi argomenti assolutamente delicati Liberati sì per chiudere sul tema Amianto tema tema così cruciale che chiaramente non si chiude appunto in questa in questa sede vorrei dire che il tema appunto è quello dell'illegalità di alcune istituzioni con cui è stato condotto con cui vorrei dire purtroppo sono state lasciate morire le persone nell'indifferenza istituzionale che cosa intendo dire che non è sopportabile pensare che da almeno 25 anni l'Amianto è ancora lì appunto tra le officine di Foligno la Tissen Grupa SGL Carbon e tanto altro alcuni si ammalano perché questo lo dicono le statistiche il mesotiroma pleurico che è una delle varie patologie connesse è al più 164% nel SIN Terni Papigno rispetto alla soglia media ebbene a fronte di tutto questo Inail stessa dice che alla fine degli anni Ottanta l'Amianto non c'è più e la magistratura gli va dietro e le persone sono costrette a fare ricorso sapendo che trano davanti dei muri ma siamo siamo in un mondo lo dico molto chiaramente ridicolo ridicolo risibile cioè non è ammissibile che i poteri dello Stato incluso questo legislativo l'assemblea legislativa e gli altri concorrano a dire il contrario della verità per cui da parte mia io lo ribadisco c'è tutta la grinta possibile la massima forza unitamente al nostro gruppo perché noi abbiamo il nostro Luigi Di Maio che ha come dire dopo anni ritirato fuori questo tema con forza e con interrogazioni e commozioni anche in Parlamento si sta cercando di fare ciò che qui stiamo portando avanti insomma unitariamente perché è chiaro che sulla salute appunto c'è totale necessaria convergenza per quanto riguarda la Val Nestore io sono stato anche 30 secondi liberato anche sabato sera da quelle parti purtroppo nell'assenza di tantissimi colleghi che erano stati invitati a dire la loro a dare una testimonianza di vicinanza che naturalmente può essere spessa in tanti altri modi ed è venuto fuori ed è poi immerso sui giornali come quella sia una situazione davvero esplosiva ma non solo e non tanto per le ceneri sepolte negli ultimi decenni ma per tutta una serie di emissioni pesanti di metalli pesanti e di altro policloropofinili che ci sono state fino a poco tempo fa da parte di Enel quando poi attiva ancora la situazione davanti e da parte di altre attività produttive su cui è bene parimenti indagare allora parliamo di legislatura parliamo di amministrazione regionale leonelli dopo un anno e qualche mese insomma come può definire questa sua esperienza del resto siete entrambi alla prima esperienza dal consigli regionale però lei insomma all'interno del gruppo di maggioranza come può definire questo primo anno sicuramente positiva anche molto gratificante insomma sento di rappresentare la collettività regionale peraltro in una fase difficilissima perché insomma noi usciamo dalla crisi economica più forte sicuramente del dopoguerra in Umbra noi nella lo dice l'Istat che nella tra il 2008 e il 2014 siamo la regione che purtroppo si è impoverita di più per tanti tanti fattori è anche vero che nel 2015 ci sono invece dei segnali molto positivi noi siamo siamo la seconda regione per incremento dei contratti a tempo indeterminato siamo la regione che registra un tasso di export nel 2015 praticamente raddoppiato rispetto alla media nazionale quindi la mia percezione è che siamo alla fine di un ciclo all'inizio di un altro per cui la mia la mia impressione appunto è che questa classe politica i rappresentanti delle istituzioni che oggi siedono in consiglio regionale hanno un grande onere sulle spalle quello appunto di disegnare il modello della regione del futuro noi per esempio partiremo già da venerdì con un'iniziativa del Partito Democratico sulla bellezza e la qualità come motore dello sviluppo della regione nei prossimi dieci anni per cui è un'idea non è che pensiamo di essere esaurienti speriamo di arrivare anche a una legge regionale su questo saremo la prima regione in Italia a farlo ecco ripeto la grande attenzione che c'è sulla classe politica regionale è giustificata dal fatto che appunto io penso che è tutto sulle nostre spalle la costruzione del nuovo modello di sviluppo della regione liberati chiaramente questa è la visione di Giacomo Leonelli del Partito Democratico la visione del Movimento 5 Stelle invece il giudizio su questi primi diciamo questo primo anno di legislatura io credo che purtroppo si commenti da sé la scarsezza di convocazioni di sedute si commenti da sé la censura che spesso precipita sui nostri atti quando parliamo di istituti di credito di cooperative di qualcosa che ha a che fare con affari e politica ad alto livello ad alto livello quindi rispetto a questo colgo un atteggiamento anche rinunciatario da parte dell'assemblea quindi rispetto al confronto democratico e questo non fa bene alla regione perché la regione è in fase di regressione purtroppo più spinta l'ha ricordata lo mio stesso collega rispetto al resto del centro sud Italia e quindi a fronte di questo ci sarebbe bisogno di immettere energie forti di confronto anche duro lasciandolo lasciandolo andare questo confronto e invece si ingabbia si reggimenta tutto c'è questo riflesso del passato di quello che abbiamo definito il regimetto un regimetto che perdura da 46 anni e sul quale noi facciamo presenti come le ombre che si addensino siano sempre più ampie e queste ombre sono corroborate purtroppo dal fallimento di svariati piani amministrativi regionali e su questo appunto si aprirebbero mille altre riflessioni non c'è tempo andiamo alla conclusione perché siamo davvero a un minuto dai saluti dopo Parma e Livorno arriva Torino e soprattutto Roma cosa cambia per il Movimento 5 Stelle Liberati? è un momento particolarmente esaltante per il Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle si pone come un'alternativa di governo è evidente è un'alternativa che credo sarà abbracciata da un numero ancora più crescente di cittadini elettori noi parliamo un linguaggio semplice non semplicistico semplice ma incisivo torniamo a far presente quanto sia fondamentale tornare appunto ritornare ai cittadini alle loro istanze alle loro più autentiche esigenze Liberati Leonelli chiudiamo con lei allora Partito Democratico la salute del Partito Democratico sia a livello nazionale che regionale siamo in un momento di dialettica interna non nascosta chiaramente visibile come andrà a finire? Speriamo che questa dialettica un po' passi in secondo piano perché sinceramente io l'ho detto più volte non è pensabile che noi stiamo sui giornali solo perché litighiamo e anche quando facciamo proposte importanti come per esempio abbiamo fatto in Umbra sul reddito di inclusione per dare un'opportunità a chi è uscito dal mercato del lavoro di rientrare con un contributo diretto e invece questa roba passa in netto secondo piano perché chiaramente invece in primo piano c'è appunto la dialettica interna quindi una tiratina d'orecchia anche come segretario del partito ma sì diciamo di sì ma questo per me non è tanto il problema del segretario del partito è il problema che i nostri elettori i nostri militanti non ne possono più di vedere il Partito Democratico sui giornali per una tensione interna su questo il Movimento 5 Stelle è più bravo di noi devo dire c'è stata una tensione enorme a Roma tra la Raggi e la a Taverna ai pare che si ami tu non lo come si chiesa se il Parlamento però le cose funzionino perfettamente entrambi hanno detto no no non c'è nessun problema quale litigio non c'è stato quindi su questo devo dire che ecco impariamo impariamo un po' dagli altri ad essere più coesi perché grazie grazie per essere stati in studio con noi grazie a Andrea Liberanti del Movimento 5 Stelle del Capogruppo del Movimento 5 Stelle e a Giacomo Leonelli del Partito Democratico e Presidente della Commissione Consiliare Antimafia grazie a voi per averci seguito buona settimana a tutti grazie a tutti